eccoci qua signori big look da dubai il più milionario di dubai peraltro in questo video vi voglio parlare di come riconoscere tosse le truffe online e anche offline e ne parliamo dopo la sigla che non c'è quindi già una mezza truffa allora signori parliamo un attimo scusate che devo poggiare i piedi sul tavolo per sembrare più professi vabbè allora truffe online come riconoscerle quindi in moltissimi anche sotto i video lì di youtube quello che mi chiedete big mi è stata proposta questa opportunità c'è questo corso c'è questa segnale di trading la piattaforma l'investimento il crowdfunding il forex il coso come riconosco cosa è una truffa ok quindi se ci spieghi come come proteggerci e come riconoscere queste cose va bene yes allora innanzitutto dobbiamo separare secondo me le truffe dalle opportunità possibilità di business che sono promosse pompate dove un po di verità c'è ma sono vendute con una certa hype focalizziamoci sulle prime che sono secondo me le più pericolose cioè i sistemi truffaldini per rubarvi soldi dove voi non potete fare soldi cioè sono ingegnerizzate sono organizzate hanno appena arrestato due persone a dubai adesso cominciano ad arrestarli anche qui e non è un buon segno sinceramente ma in realtà bene perché moltissime persone che fanno cose dell'altro mondo vanno in paesi leggermente opachi oscuri dove non c'è l'estradizione pensando di fare chissà cosa la realtà che adesso vengono presi soprattutto quando fanno delle truffe molto grandi quindi una truffa e ciò da cui io voglio che voi siate assolutamente alla larga adesso vi dirò come fare sono tutti quei sistemi software schemi ponzi sistemi di network non network marketing cioè di conoscenza di persone che te la vendono e non si capisce neanche cosa dove in realtà non c'è nessun business non c'è nessuna opportunità non c'è nessun modo di fare business quindi chi ti propone questa cosa qua ha il solo scopo di rubarti i soldi cioè di prendere i tuoi mille euro cinque mila euro milioni di euro miliardi di euro capita e sa già che ti sta truffando ok ti vuole vendere una cosa che non c'è alcune cose prima di tutto in qualunque business in qualunque porto allora andiamo addirittura più indietro per fare dei soldi molti non capiscono questa cosa come si fa a guadagnare del denaro ok il denaro si guadagna a qualunque livello sia dal lato investitore che dal lato imprenditore io per esempio sono tutte e due vendendo un prodotto o un servizio a qualcuno che lo compra questo è veramente primis ragazzi è molto importante soprattutto online perché c'è una confusione quando le persone sentono fare soldi online entrano in un'altra dimensione cerebrale ma come si fa fare i soldi online allora ragazzi si devono vendere dei prodotti e dei servizi a un pubblico di riferimento che compra questo selfie stick che voi vendete selfie stick ok o siete affiliati o investitori in un'azienda che li vende non c'entra a livello diciamo economico sono dei selfie stick la persona di riferimento per esempio me paga questo selfie stick 20 euro per dire 10 euro non lo so e voi avendo messo insieme il sistema o partecipando a un sistema organizzato di trovare i prodotti venderli pubblicizzare eccetera eccetera questo selfie stick chiaramente avete un mark up più questo prodotto è bello e ricercato meno ce n'è in giro più è di valore ciò che fate perché magari il vostro selfie stick rispetto yeah yeah get in la mia maid mi porta il caffè ok non interrompere il video quindi più questo selfie stick please just give it to me thank you thank you very much ok vabbè ok close the door ok mi ha detto fammi il caffè americano praticamente è un espresso nella tazza allora stavo dicendo ragazzi più questo selfie stick è bello e più è ciò che queste persone vogliono veramente l'avete fatto bello avete trovato i prodotti buoni di un colore bello avete messo qualche funzionalità che siete stati magari primi a metterlo o semplicemente avete uno sforzo pubblicitario tale per il quale siete più visibili di altri eccetera eccetera più chiaramente potete far pagare no questo selfie stick le persone lo comprano ora voi mi direte cosa c'entra questo con le truffe c'entra molto si deve muovere un prodotto e un servizio questo è come si fanno i soldi a qualunque livello poi l'impalcatura l'organizzazione le aziende la burocrazia se ne può parlare ma nel piccolo e nel grosso si deve muovere un prodotto e un servizio quindi nel momento in cui voi vedete qualunque cosa dovete subito porvi questa domanda ma qual è il giro dei soldi che tu mi stai dicendo che io posso guadagnare il 3 per cento al giorno se io in questa piattaforma ci metto dei soldi a me può anche andare bene ma perché quale prodotto cioè io io ti do dei soldi e poi cosa succede dovete essere smaliziati e capire qual è il giro del fumo perché altrimenti non può funzionare fatemi meglio se sta registrando perché non capivo se stesse registrando se no parlo da solo ok quindi c'è una piattaforma c'è un qualcosa c'è un corso c'è un software dove voi dovete dare dei soldi cosa mi viene dato in campo soprattutto bene non tanto per i corsi ma proprio per le opportunità per quelle robe per quelle truffe le piattaforme inviami 200 euro poi te ne ridò 300 no aspetta perché io ti do 200 con questi 200 tu cosa fai quale prod quale mercato tu stai soddisfando perché se io ti do 200 euro che tu non hai tu riesci a vendere 10 selfie stick che non avresti potuto vendere senza i tuoi 200 e allora ti riconosco un interesse questo vabbè vendo selfie stick allora se ne può parlare questo è l'investimento ok uno investe in un'azienda che vende scarpe gialle ai pirla di dubai che le comprano a centinaia di euro ok e quindi tu vendi scarpe c'è uno scab posso piacere posso non piacere questo non è l'argomento del video te non piacciono le scarpe gialle ma se abbastanza persona comprano le scarpe gialle se le mettono ok vuol dire che c'è un mercato di riferimento tu mi dai dei soldi che aiutano il mio business a vendere scarpe gialle io ti riconosco dei soldi allora va bene qual è il giro dei soldi quale prodotto e quale servizio viene venduto da che parte da chi a chi si muove cosa voi dovete esigere queste spiegazioni e dovete essere non scettici per essere scettici essere calcazzo ma essere veramente interessati a quello che fate nel momento in cui voi delegate l'utilizzo dei vostri soldi a qualcun altro sperando che questo qualcun altro che potrebbe essere una persona senza volto in una piattaforma cripto ponzi ho visto delle copa adesso in quel campo lì per esempio è una tragedia ok pensando che questa cosa qua sia la gallina dalle uova d'oro piantatevelo bene in testa non si diventa ricchi con una botta di culo si dice infatti che non si possa truffare una persona onesta dove cosa vuol dire questa cosa cosa vuol dire onesto onesto vuol dire in realtà bilanciato mentalmente cioè qualunque persona adulta dovrebbe sapere che per ottenere un risultato c'è bisogno di uno sforzo ok molti adulti non lo sanno c'è ancora se ti vedo vendo la pillolina per avere gli addominali scolpiti tu sai che non è possibile bisogna fare la dieta bisogna fare degli esercizi quotidiani o bisettimanali non lo so ok di addominali altrimenti non va bene quando uno vuole deputare abdicare la responsabilità e vuole ottenere tanto per poco cioè io voglio ottenere il 3 per cento al giorno che non è possibile ragazzi in un mese saresti più ricchi di warren buffett fatevi calcoli ok per poco ti do 100 euro loro ti rubano poco per nulla questa è la truffa io voglio tanto voglio diventare ricco ricco soldi entrate automatiche che derivano dal non fare niente e tutto ciò che devo fare è entrare in questa piattaforma e dargli mille euro e fare le cripto mlm indentate con la block chain con però real estate del trading del segnale questo software queste piattaforma sono tantissime delle opzioni binarie tutte queste truffe ok e poi farlo con 100 euro e adesso parliamo anche di questo puoi farlo con 500 con queste cifre ridicole basse ma magari per voi importante quindi voi volete tanto questo risultato di fai 200 mila miliardi al mese ok con 200 euro e la cosa andrebbe anche bene ma come perché tu puoi far diventare 200 euro 2 milioni di euro con tantissimo ma come io potrei per esempio faccio l'esempio per comprare 200 euro di selfie stick guadagno 2000 euro quei 2000 euro li rimbesto per fare 4000 euro e allora partendo da 200 posso arrivare un domani a 2 milioni tanto per dire ok ma è una spiegazione logica di un prodotto di riferimento dice certo tu inizi comprando solo 200 euro di selfie stick poi per dire investi tutto magari poi c'è qualche investitore e il progetto può diventare grosso è un esempio banale ma giusto per capirci quindi potrebbe anche andare bene ma no metti soldi nella piattaforma del cripto coso non fa niente vai al mare siediti sull'amaca e ricevi dei soldi questo assolutamente non va bene quindi pagate poco e vi rubano poco e vi danno niente ok quindi qual è il giro dei soldi quando una roba è fumosa difficile difficile da capire ok le truffe si fanno in due modi o cose di una facilità estrema da capire ma che non esistono che sono le più pericolose secondo me sono quelle nelle quali cascano anche quelli con i soldi anche le persone di un certo livello adesso ne parliamo oppure quelle complicati su una sinora guarda c'è un sistema che non ho capito io metto i soldi poi non faccio non lo so è troppo complicato chiaro che sia una truffa ok non perché ciò che è complicato il fumoso è una truffa a volte non lo è ma se non lo capite e se vi vendono una cosa incapibile solo per rubarvi i soldi ovviamente vi stanno truffando va bene voi dovete capire dove diavolo mettete i soldi regoletta pratica io non metto i miei soldi da nessuna parte che nessuna cosa che non capisco niente non mi interessa di quanto è buona la promessa o di chi me la fa io non metto il mio denaro in cose che non comprendo se io non comprendo appieno poi dopo di che c'è anche che voi pensate di comprenderlo e non lo comprendete e non è una truffa me l'avate voi ignoranti o semplicemente andata male quindi poi bisogna anche lì scernere ma tu mi dici che c'è un sistema automatico che diventi ricco senza fare niente mi dai mille euro e tra un mese ai 100 mila euro me la devi spiegare molto bene non la capisco non la comprendo non capisco i gap si c'è un prodotto poi però le persone fanno questa e poi trovi soldi così no spena ripeti ci sono dei buchi in questo ragionamento qua quindi finché non avete contezza di che cazzo sta succedendo poi non lo fate benissimo soldi senza fare niente non se ne possono fare quindi se state cercando un metodo di fare soldi senza fare niente vi dico ben subito che questo metodo non c'è non c'è nessuna piattaforma le persone ricche non sono diventate ricche con una botta di culo e non sono esposte ad informazioni segrete ok noi non abbiamo accesso a quelle insider information che voi pensate che noi ci vediamo sui campi da golf no le persone che non hanno soldi dicono ma i ricchi c'è tutti i loro giri chissà guardate che non è vero ok quello che si può fare studiare tanto e avere e poi accumulare delle informazioni che gli altri non hanno la pazienza e la voglia di andarsi a prendere perché è molto più facile mettere i soldi nelle piattaforme automatiche di opzioni binarie è chiaro che sia più facile lo so anch'io solo che non funziona funzionassero avremo tutti i nostri soldi nelle opzioni binarie provate anche a pensare ci sarebbe un re buffett che investiamo in opzioni binarie evidentemente non è così chiaro benissimo quindi non ci sono i trucchetti trucchetto non c'è c'è che tramite lo studio e tramite l'accumulo di cultura potete bruciare le tappe per il semplice motivo che arrivate prima la vostra destinazione cioè se voi sapete come allenarvi e come mangiare rispetto a uno che non lo sa arrivate ad avere un bel fisico prima di lui ma non perché vi è scesa l'illuminazione divina chiaro benissimo quindi capire il giro del fumo capire cosa si muove da chi a chi e perché è questo business che tu mi stai proprio cosa vuol dire cosa si vende ok benissimo altre informazioni che vi posso dare prima ho detto non potete investire 300 euro c'è il concetto di fare soldi senza soldi adesso lo dobbiamo un attimo spiegare perché è ovviamente possibile iniziare a monetizzare iniziare a vendere per esempio della consulenza delle informazioni il campo delle informazioni per esempio un campo molto profittevole non per tutti nessun campo è per tutti dove è possibile con un piccolo sforzo guadagni cominciare a guadagnare cifre importanti allora se io faccio ho fatto questa affermazione l'auto analizziamo per farvi capire le differenze va bene allora mettiamo che voi abbiate delle competenze di legal ok siete degli avvocati va bene avete la laurea avete fatto tutte le vostre abilitazioni e quindi potete elargire della consulenza legale bene facciamo un esempio quindi che cosa noi stiamo vendendo innanzitutto vendiamo conoscenza nel campo legale una persona ignorante sui propri diritti una persona ignorante a livello contratuale non sa io elargisco una lezione o elargisco un contratto che poi gli do anche per del denaro che cosa si sta muovendo del mercato la mia conoscenza dell'aspetto legale è una cosa che non si tocca ma è una cosa reale chiaramente io devo fare dei contratti perché devo commercializzare i selfie stick dico sì però legalmente non parliamo con un avvocato allora mi siedo di fronte all'avvocato e dico signor avvocato guardi io vorrei commercializzare dei selfie stick che sono qua presenti dalla cina e li devo vendere in in america ma come mi comporto allora l'avvocato guardi che secondo la regolamentazione tot eccetera eccetera lei può vendere selfie stick però deve pagarci x di tasse però devono avere un controllo qualità perché lei vende una cosa che è un brevetto eccetera eccetera e quindi io beneficio di queste informazioni che pago prontamente ok quindi che cosa si muove conoscenza legale perfetto quanto sforzo ci vuole per vendere questa cosa un avvocato potrebbe avere degli amici su facebook e dire vi serve una consulenza legale ve la faccio per 200 euro aprire facebook è gratis oppure potersi si può mettere a fare dei video su youtube che sono gratis però ci vuole tempo la persona vede il video lo faccio anch'io e produco dei video poi se uno vuole acquistare i nostri percorsi clicca e ricompra qual è il costo di questa cosa bene l'immediato può essere quasi zero ok innanzitutto nel caso dell'avvocato ha speso dei soldi del tempo per laurearsi eccetera eccetera però lasciamo perdere parliamo del qui ed ora se no l'esempio diventa troppo difficile quindi è possibile cominciare con poco con quasi niente a cominciare ad incassare ma poi per esempio nel caso di un consulente l'avvocato si dovrà fare prima o poi un ufficio dovrà dirà beh con facebook i miei amici mi pagano solo una volta al mese perché non ho una massa critica di persone un mercato di riferimento a cui vendere devo fare della pubblicità a pagamento ok quindi prendere una parte dei proventi che lui ha potuto avere quasi a gratis reinvestirli e creare un'infrastruttura un ecosistema del marketing eccetera eccetera ok benissimo quindi non è vero che non è possibile partire da zero quasi però c'è poi un reinvestimento e non si va da 200 a 2 milioni così nel momento in cui invece io vi dico dammi 200 euro tu non ti preoccupare perché io ho i contatti siate estremamente diffidenti da questa cazzà no non farmi dire niente no che non farmi dire non me lo dici ok una cosa per esempio delle persone serie di business cioè le persone sono estremamente trasparenti quando voi parlate per esempio con un investitore siate estremamente trasparenti non gli raccontate supercazzo pane al pane quello vuol capire numeri chi cosa come non c'è questa segretezza ok quindi tu mi dai 200 euro e io te ne faccio arrivare mille alla settimana per tutto il resto della tua vita e come in che senso che cosa mi stai proponendo quindi a questa cosa bisogna stare attenti c'è poi il concetto di vivere di rendita ok di avere delle entrate indipendenti che ti diano da mangiare tutta la vita ora ben questa cosa qui è una cosa rarissima e questa cosa qui avviene in ultima analisi solo quando voi avete talmente tanto patrimonio talmente tanti soldi in vari asset per esempio strumenti finanziari o real estate i due sono immobiliare e borsa non è che ce ne siano molti altri che ti diano un dividendo una rendita che sia il più sicuro possibile voi avete 100 immobili a reddito avete una persona che se ne occupa più o meno senza fare niente voi ricevete dei soldi ma anche lì attenzione ci sono 100 immobili quindi ci sono 100 persone che pagano un affitto dovete accumulare 100 immobili dovete far gestire 100 immobili ovviamente se avete persone che vi pagano 1000 euro al mese voi avete 100.000 euro al mese in modo abbastanza automatico ma non ci arrivate con 200 euro attenzione potete partire con 200 per un immobile magari no facciamo un altro esempio la borsa avete un portafoglio di borsa da 10 milioni avete 3 per cento di dividendi all'anno ecco che avete 300.000 euro senza fare niente allora va bene ma avete 10 milioni potete partire con 200 euro questa è veramente fondamentale partite con 200 euro si può partire in borsa con 200 euro assolutamente si adesso anche tutti i broker hanno introdotto la fragmentation che anche se un'azione di un'azienda per esempio costa 200 euro voi avete solo 100 euro potete comprare metà azione che è una cosa molto bella perché molte più persone cominceranno ad investire quindi potete partire con 200 euro quando poi avrete 10 milioni io sono partito con 200 euro ma è vero non è vero che quei 200 euro dopo domani diventano 10 milioni voi avete 300.000 euro quindi bisogna distinguere dovete avere questa malizia fare 300.000 euro con 200 euro non è possibile o è un'informazione molto molto ma molto parziale io direi trufaldina ok quindi quando voi vedete dei sistemi delle piattaforme che con un importo veramente veramente minimale in pochissimo tempo voi dovreste arrivare a una massa critica che vi dà una rendita e non capite come perché ma non lo so una piattaforma super segreta è una truffa 100 per cento ok quindi state molto ma molto ma molto attenti chi casca nelle truffe e questo è non ci sono molte altre cose non fate ovviamente non confondete delle opportunità di business legittime come truffe no quindi vedete la vendita su amazon ha chiuso una truffa perché non è una truffa calma cioè un momento si vende su amazon ci sono dei prodotti ci sono dei servizi dovete trovare questi prodotti e questi servizi amazon è il tramite che li vende poi voi incassate potete fare un'azienda poi che questa cosa eccoci qua stavo dicendo che questa cosa venga venduta in maniera un po esagerata va bene ma non invalidate per forza il il metodo che ai vendere corsi consulenze eccetera eccetera uno la può fare un po più facile di quello che è va bene possiamo disquisire su questa cosa ovviamente ci sono dei limiti entro i quali non bisogna spingersi per esempio se vi dicessi comprate i nostri corsi sull'online marketing e tra due giorni siete milionari questa cosa qua è assolutamente da non fare va bene però i corsi che noi vendiamo sono dei corsi con un reale valore che se applicati se studiati e se compresi in un tempo ragionevolmente medio lungo si può parlare per alcuni capita in qualche settimana ma fa niente in qualche mese avete sicuramente la sicurezza che le informazioni sono di ottima qualità e avete una probabilità di cominciare a capire come funziona questo discorso della del vendere online del pubblicizzarsi del fare follow up eccetera eccetera in una maniera abbastanza completa che può portare a una monetizzazione io posso spingere questa cosa potrei dire fai 3k entro 90 giorni è possibile fare 3k entro 90 giorni sì come si fanno per esempio nel campo infomarketing io ti spiego come vendere le tue competenze a un mercato di riferimento sono tutti esempi non dovete prendere i corsi non me ne frega niente ok ok entro 90 giorni io potrei riorganizzarmi in modo da vendere le mie competenze ammesso che io le abbia a un mercato di riferimento e fare 3000 euro sì ok è strecciata la sto vendendo bene può sembrare quasi una prova e bisogna stare molto attenti e non bisogna spingersi oltre noi non facciamo neanche questo è fai 3000 euro in 90 giorni non è nostra va bene però per dire sì però non è una truffa ok quindi dovete anche avere questa malizia perché la dovete avere perché altrimenti voi non farete mai niente perché poi ci sono persone che mi dico è tutta una truffa allora io non faccio niente non farò mai impresa non farò mai più soldi si possono fare più soldi si può fare impresa si può fare business online si può arrivare a guadagnare delle cifre di soldi che oggi considerate impensabili si può guadagnare 100 200 300 mila euro al mese assolutamente sì potete iniziare da 200 e sì ma ci arriverete dopo un po magari neanche tra 30 anni potreste arrivarci tra 3 4 facendomi un culo così prendendo quei 200 reinvestendoli allora poi fate il tiro dormite la notte dice cacchio no però non ci sono i soldi le faccio arrivato il bonifico con questo espando faccio più pubblicità cacchio mi rientrerà il bill della carta di credito dopo che ho pagato per l'espansione perché ok no allora entrato facciamo più vendite vendiamo più selfie stick allora di alla cina che gliene possiamo comprare un po di più perché la carta di credito non mi entra tra tre giorni ma tra 40 abbiamo ancora dieci giorni di scarto e loro abbiamo le vendite dei primi dieci state fatte un casino del genere mettete su un team eccetera e potete spazio ma è quello il lavoro che c'è dietro no che voi mettete 200 euro ragazzi nei sistemi e vi tornano dei soldi ma sono truffe voglio che voi abbiate questa malizia ok che altrimenti vi chiudete cerebralmente vi faccio un esempio molto molto concreto le opzioni binarie sembrano un po tipo il trading no allora dice il trading è una truffa io non faccio trading no si possono fare soldi con il trading assolutamente sì non si possono fare soldi con il trading investendo 200 euro 500 euro poi mettendosi sul lama che fate mille euro al giorno quella roba lì no va bene si può investire per avere una rendita si può fare immobiliare assolutamente sì si può farlo senza fare niente delle gare dare soldi a qualcun altro che li gestisce poi in qualche modo di ritorno non si capisce come assolutamente no quindi questo è importante poi due parole su chi casca in queste truffe possibile truffare chiunque in realtà nelle truffe molte volte ci sono truffe illustri pensiamo a bernie maido che ha fatto più grande ponzi in america della storia dell'umanità e lui truffava i molti le famiglie ricche di new york famiglie miliardarie o decamilionari famiglie con patrimoni da 200 300 500 milioni che ha fatto un ponzi da 50 miliardi e passa tema 50 40 30 da decine di miliardi ok quindi una persona potrebbe dire ma com'è che una famiglia che ha un patrimonio di 100 milioni abbia affidato 10 20 50 milioni o 100 milioni a bernie maido semplice questa persona era riuscita ad entrare network no parlavo prima conoscenze e a posizionarsi oserei dire come un esperto una persona che ne sapeva tramite una legittima esperienza una legittima posizione che ha sfruttato e tramite connection perché uno lo dice all'altro ci ho conosciuto questo mi sembra in la cosa si espande a certi livelli si fa molto sulla fiducia no a qualunque livello in realtà si va sulla fiducia il concetto di avere un affare che gli altri non hanno e che in qualche modo il tuo patrimonio si possa moltiplicare molto velocemente una cosa allettante per tutti nel campo per esempio ci sono tre campi essenzialmente sui quali ci sono le maggiori truffe quello finanziario i soldi sono il primo perché in realtà segretamente quasi tutti vorrebbero avere più soldi c'è il concetto di dire che io ti do un milione se tu vai da qualcuno ci ti do un milione molte poche persone lo rifiuterebbero uno guarda una casa in orge ma cosa serve una casa del genere ma se te la regalo e ti do le chiavi e ti pago le spese secondo me in quella ma ok tutti o quasi tutti sto generalizzando vorrebbero essere ricchi quanti non vorrebbero poter lasciare il loro lavoro perché hanno talmente tanti soldi che domani non devono più passare un'ora nel traffico sottostare magari a un capo che non gli piace facendo una cosa che tollerano a malapena moltissime e quindi chiaramente l'avidità e la voglia di avere soldi senza fare niente presenti in ognuno di noi tutti noi lo dobbiamo contenere campo del sesso per esempio erotico eccetera vai da un uomo ti puoi fare sesso con donne bellissime quando vuoi e avete la loro attenzione è normale sarà sempre così piuttosto che campo del fitness ti puoi abbuffare come un porco e non ingrasserai mai questa è la pillola che ti consente di farlo ma miliardari da dove va bene ma sono truffe quindi questi tre campi quindi le persone che cascano in queste truffe sono sia persone di 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 alto a di alta cultura diciamo persone non so laureate persone di esperienza che parlano magari varie lingue persone imprenditori investitori importanti che sono anche andati magari da zero a un patrimonio importante che poi si fanno ingabulare non si accorgono si fidano e questa è sempre una cosa la fiducia le maggiori truffe avvengono per conoscenza per referral di persone da cui ci si fida sono persone estremamente seduttive seducenti perché lo devono essere per fregare soldi alla gente dovete essere cauti quindi quando si parla di business anche se siete mandati da qualcuno di cui vi fidate nel momento in cui qualcuno vi dice c'è la tale persona che ha questo affare po under the table così si no fidati dagli soldi frega te ne fagli bonifico ok ma di tu va bene date da questa presenza ok no adesso voglio capire ma tanto ti ha mandato il tuo amico si si mi fido eccetera ma io adesso voglio capire perché si parla di soldi quindi dovete stare molto molto attenti a questa componente qua perché altrimenti vi fate fregare e la gente ci proverà soprattutto se avete tanti soldi se ne avete pochi vi rubano poco se ne avete tanti vi rubano tanto il problema che rifare 200 euro è facile rifare un milione due milioni tre milioni cinque milioni è un po più rognoso ok soprattutto persone succede le persone che sono finalmente arrivate ad avere un milione due milioni 10 milioni in banca sono contento e cazzo gli capita una truffa e ritolgono quasi tutti e tornare indietro è devastante quindi questi sono un attimo i miei consigli sulle truffe online offline state molto attenti mi hanno anche chiesto quali sono adesso le truffe più comuni le truffe a parte le truffe ce ne sono tantissime nel campo sessuale ci sono quelle che ti dicono ci spogliamo in webcam ti fanno il video e poi ti ricattano che ti estorcono dei soldi ci sono quelle del dei sistemi di trading automatici dove il sistema fa tutto per te tu non devi fare niente ragazzi se queste robe qua fossero vere nessuno farebbe più business non ci sarebbero le aziende sarebbero i sistemi di trading automatici che ora alcuni segnali possono funzionare non sto generalizzando però devono essere e io non so se funzionano per l'altro mai provati e non lo so però devono essere un ci possono essere dei tools e delle cose che aiutano ok il tuo sforzo il fatto che si debba muovere un prodotto da qualcuno a qualcun altro che ci sia un mercato che ci sia una progressione ragionevole dei soldi che tu investi e non che tu metti un euro e ti ritrovi 10 miliardi dopo domani va bene ma non robe totalmente automatiche che tu dormi e basta non ce li ha nessuno non ci sono va bene quindi occhio a tutto quello che è cripto ok lo so che adesso ho detto così e ci saranno i vari esperti di cripto che rompono le pa che non esistono oltretutto gli esperti di cripto è un ossimoro esperti di cose dai per piacere fatemi girare le balline oggi ah no perché tu non capisci che la block chain va bene neanche tu ok nel momento in cui una persona vuole partire da zero e crede di poter investire 100 gli ritorna mille alla settimana questa persona molto lontana da capire la block chain e la cripto prima deve avere conoscenze di finanza personale di marketing e sviluppare un minimo di intelligenza quindi è molto lontana da capire certe cose che possono essere capite per sfizio o perché uno si occupa di quel settore per altre per altre cose occhio alle cripto non sto dicendo che tutte le cripto siano una truffa ma il bitcoin eccetera va bene ok se avete dei soldi volete speculare compratevi un po di bitcoin io non ve lo consiglio io non è vero che non ho delle cripto ce le ho perché alcuni mi hanno pagato i nostri corsi della big look international il cripto quindi ho 15 mila euro di cripto ma non le ho mai comprate però occhio perché essendo una cosa nebulosa la block chain tecnica no gli ho dato 100 euro mi devono far tornare un milione ma perché la block c'è no è già la block al sistema di centro ti viene una una pinna di due metri no gli uomini gli uomini io sono tutti uomini quelli che vengono truffati con queste cose qua perché noi siamo stupidi quando lo dici devi andare in bagno ti devi fare no la roba decentralizzata automation by binary a no se è binary mia perché minchia quando poi mi sfiedo con la birra con i miei amici ragazzi ho fatto una roba in block chain binary signal quando non ho capito mai una roba complica no 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 roba complicata che non ho capito perfetto non roba complicata che non ho capito truffa ma potenzialmente potresti essere truffato perché tanto non la capisci non capisci se è un'opportunità di business una cosa un'azienda nella quale investire che ha un sottostante che esiste oppure una roba totalmente campata per aria dove non c'è neanche costruito delle piattaforme quelle di one coin mi sembra dove uno pensava di fare trading ma in realtà era tutto a computer questi si rubavano i soldi fine bellissimo hanno fatto una roba così illegale che gli hanno di recente fatto una rogatoria e hanno ottenuto soldi in tanzania cioè quello che hanno fatto è stato illegale anche in tanzania e gli hanno fregato i soldi dalla banca banca of africa in tanzania ok bene occhio ok non fatevi fregare dovete essere un minimo intelligenti e e queste cose possono venire dai vostri amici e questi si dividono in due ci sono delle persone se io ti propongo un'opportunità ok in cui io credo che non è nata per essere una truffa ok e poi questa opportunità qua la smontano ok è un conto cioè tu puoi credere in un'azienda e poi fidarti comune per le persone che fanno network marketing promuovono una cosa nella quale loro credono poi l'azienda viene chiusa cazzo ok sgradevole però non c'è malizia in questo le persone oneste mentono io posso dirti una cosa nella quale io veramente credo ma in realtà è falsa ma io non so che è falsa quindi quello è un discorso ci sono altri così come altre opportunità così come altre truffe che vengono invece promosse proposte già sapendo che sono truffe questo è per esempio il caso degli dei ponzi no ponzi è dove non c'è un prodotto un servizio ma sono tutte si fa sempre con gli investimenti perché non sono tangibili no si stiamo investendo non si capisce mai dove ciò che io dovrei ridare a te lo pago con i soldi che tu prendi al prossimo e quindi mi entrano dei soldi io ripago te ma il prossimo devi inculare il prossimo per pagare il primo a un certo punto il sistema collassa c'è stato uno schema ponzi fatto in italia dove era diventata una situazione così catastrofica perché poi le persone quando hanno perso soldi no cambiano però di come senti vabbè inculerò l'altro tanto vinculato me lui troverà un altro e quando questa cosa qua si fa tra amici e molto molto brutta ma c'è stato un caso di un'azienda che non voglio neanche nominare ma perché è il principio quello che conta non ce ne frega niente dove gli amici facevano entrare gli amici in questo sistema per recuperare i loro soldi gli amici degli amici è una cosa veramente veramente brutta perciò dovete veramente uscire dalla mentalità che è facile veloce automatico e che finalmente avete trovato il trucchettino che non vi aveva permesso di diventare ricchi prima che è un software una piattaforma una chimera eccetera eccetera perché questa roba qua non esiste ok io spero che questo video vi sia utile io sono big look il più milionario di dubai arrivederci